Hai ritirato i vestiti per stasera? Nel pomeriggio Hai chiamato il pasticcere? Il telefonato? Il lavandino? Aggiustato? La piscina? Riempita? La ghiacciaia? Accesa? Gli occhialoni? Va bene? Le foglie? Raccordo? L'erba? Fumata? Cosa? I signori desiderano qualcos'altro I signori vogliono farsi bagnoci senza vestiti Va di moda Va di moda Artemio stia tranquillo un tatto Non dovrà dire tutte queste cose Vecchia Artemio Vado in gargianti Vado in gargianti Vado in gargianti Oooooooo Che? Sentite mettetevi d'accordo di far sapere Io giordo i tanti di tavoli nel condominio Vado in gargianti solo voi Come vi sta? Eh Oh Santa Maria Vergine quando ti ha scattato questo vestito Quando quando Brava però brava perché ha già tentato di uccidere almeno 20 persone ma dovrebbe andare subito alla polizia ma qual è la polizia? ma lei è un pazzino ma si sospettirebbe potrebbe ucciderci tutti quattro come volete avete fatto amicizia voi di qualità? io la signora siamo un po' di toni vado in cucina va va a dare una mano a sua moglie quella santa donna che si è accollata questa pratica sono apparecchiare per le cerimonie non è una cerimonia non lo è sono gli ordinari, sparecchiare, mescere, travasare la cucina stirare, ballare, spinuccare e rastrellare ma voi non so fare un sacco di cose non possiamo vederla ha detto che non serve e so cantare ma voi non è scontata, so cantare ma che cazzo se ne facciamo di una camminiera che canta ma sei l'incoglionino lei si è innamorato di me sie lei è un cinema dicendo che venivete in mezzo a queste cose venga quella terra